Ciao amici ben ritrovati, oggi andiamo a vedere come fare questa graziosa decorazione per un tavolo dei laureati molto carino, originale, spero che vi piaccia, vediamo come si fa per realizzare la mia decorazione per la laurea ho utilizzato del feltro o pannolenci e ho utilizzato una ciotola di queste per le piantine ho messo una spugna all'interno, quella per i fiori e ho realizzato queste rose fatte come nell'altro video con il pannolenci ho realizzato le rose e le ho applicate tutte posizionandole su uno stecchino da spiedino ho tagliato a metà e vado a fare la stessa cosa ora inserendo i cioccolatini sullo stecchino e poi li vado ad infilzare all'interno di questa ciotolina in modo da completare la decorazione potete fare anche tutte rose o tutti i cioccolatini come più vi piace ho messo un nastrino qui alla base semplicemente legandolo in questo modo metto poi i miei cioccolatini sullo stecchino con un po' di colla a caldo aspetto che si asciughi in voi e poi vado ad inserirli all'interno della spugnetta insieme ai fiori quindi applichiamo un po' di colla in questo modo aspettiamo che si asciuga e poi andiamo ad inserire all'interno e dopo aver inserito i nostri cioccolatini possiamo andare ad inserire il palloncino e le varie decorazioni magari con la scritta laurea tutte queste decorazioni che fanno parte un po' per far capire meglio il tema e le andiamo ad inserire all'interno il palloncino lo vado a mettere al centro ho messo su un bastoncino questi per i palloncini e lo vado ad inserire al centro della decorazione ho realizzato il tocco come ho fatto vedere nell'altro tutorial in questo modo e vado ad applicarlo sul palloncino questi sono i cioccolatini messi all'interno potete riempirlo tutto come desiderate e questa è la mia decorazione terminata ho applicato il cappellino ho messo una coccinella qui al lato sul palloncino ho applicato anche una scritta qui facoltativa potete mettere il nome anche del festeggiato della festeggiata e questa sarà una bellissima decorazione per il tavolo dei lavoriati ed eccola terminata questa è la mia decorazione ho messo la coccinella e ho terminato così spero che vi piaccia ciao un bacio alla prossima ciao 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 ciao